Sono Angela Elia, psicologa e psicoterapeuta. Sin da piccola nutro il fervore per la psicologia che per me è stata una bussola, il termometro emotivo della mia vita e con gratitudine una sapiente madre. Il mio lavoro si fonda su una modalità pragmatica, collaborativa ed empatica al fine di fare esperienza diretta dei significati del malessere psicologico che porta le persone a rivolgersi per un intervento psicoterapeutico. È una terapia esperienziale più che interpretativa, focalizza l'attenzione sul presente. Il contesto terapeutico è un contesto protetto, protetto in modo sano. L'idea della terapia, che ho mutuato dall'approccio che utilizzo, è racchiusa in una citazione di Peirce. Trasformare persone di carta in persone reali, ovvero insegnare alla persona ad usare il suo potenziale innato, le sue risorse e avere meno timore della sofferenza, del dolore. Imparare a tollerare le proprie scissioni, i propri conflitti, le proprie ambivalenze come unica strada per restare vivi, aperti, pronti e ricettivi di fronte alle situazioni in cui ci troviamo. Assumersi quei ragionevoli rischi che sono parte integrante della crescita, concedendoci di agire e di rispondere in modo autentico, non dettato da una maschera che ci protegge. Non rimandare al domani l'ascolto della tua anima ferita. Curiamola insieme.